In serie di Lagozzano, dopo due vittorie nelle ultime tre giornate, sei punti di vitale importanza per la sua classifica, affronta in trasferta l'Asti ormai lontano dalla zona play-out. L'obiettivo dunque per il Rosso-Blu è quello di conquistare un altro risultato positivo che li avvicinerebbe al traguardo-traguardo che per la RG Ticino significa play-off. Il K.O. di Chisola ha spento le speranze di arrivare al secondo posto. Ora i verde Granata devono invece blindare quantomeno il quinto dalla rincorsa delle concorrenti ragazzi. Il mister Carrobbio affrontano in casa il Dertona e la Borgossese aritmeticamente al retrocesso. Proverà un sussulto d'orgoglio contro la Lavagnese in eccellenza. Il big match è quello che si gioca a Borgaro tra i padroni di casa e l'Oleggio, una partita che può indirizzare il campionato, la seconda forza del torneo. La Volpiano-Pianese affronta in casa l'Accademia Borgomanero a Licesi Orizzonti contro Pro Novara. Il Verbagna vuole tornare al successo al Pedrolli contro la Pro Eureka. Il Vole Bellinzaghi è trasferta sul campo dell'Augreville così come la Biellese in quella di Lascaris. In promozione dopo il sorpasso della scorsa settimana, il Baveno chiede strada alla Valduggia. Partita complicata per il Briga che affronterà la Rona. La Juvedomo in casa contro il Casale, Trino di scena a Chiavazza. Omegna, Ceversa Mambiella, Dofur, Varallo, Ferriolo e Cameri, Valdirana e Biogliese completano il quadro delle partite. In prima categoria potrebbe già essere il giorno della festa per la Navassese in caso di vittoria e di non vittoria della diretta concorrente. Trecate attesa dalla partita non semplice al Curotti contro la Virtus Villa. La Navassese invece giocherà contro il Carpignano. Il Bagnella affronta la Pernatese. Derby tra Gravellona, San Pietro e Vogogna. E tra Piedi, Molera e Canobiese. E tra Piedi, Molera e Canobiese.